Salve ragazzi, questa è la mia telecamera con la leda Diana, ma appena sono i telefoni Quindi ragazzi, ragazzi guardate, guardate, piove, date che nuvole Luigi, aspetta mia, ahia, è bagnata la sedia, porca di mamma, porca di mamma Ok ragazzi, noi siamo un poco fuori, perché a noi ci piace fare fuori Ragazzi, io sto facendo un altro video che ho fatto adesso, e quindi domani c'è una manghiluzione Ragazzi, ragazzi, questa è la challenge, dobbiamo rimanere per 24 ore qua fuori Allora, ho pure a fare i video, eh, va bene ragazzi, i video Voglio mettere un attimo i listi, Luigi, che titolo vogliamo mettere? Tu metti Clara Ferraioli, perché tu voglio mettere Antonio Salvatore, va No, Luigi, in titolo, in titolo, se io ho spiegato tutto quanto, spiega Spiega? Spiega No, mi devi stare qua, ha detto Ma non piove più Eh sì, certo, non piove Ragazzi, adesso non piove più, però se sono 24 ore, dopo ripioverà di nuovo Oppure stasera Spiega ho fatto 8 fufufufu Spiega Spiega Ragazzi, adesso vi racconto qualcosa E scherziamo, quindi ciao un attimo No, no, no Non, non Mi faccio un bel selfie No, Luigi, Luigi, vuoi portare un attimo le sedie? Porta un attimo le due sedie No, ti sono la tua, perché la mia sta là Sì mamma stiamo facendo la challenge che dobbiamo che dobbiamo rimanere per 24 ore là fuori Ragazzi aspettate un attimo Ok ragazzi non vedete ma qua stiamo in cameretta Ragazzi qua stiamo in cameretta senza luce ma qua c'è la luce voi vedete un attimo Ok ragazzi Ragazzi scappiamo Ok ragazzi ci sono Sono qui in cucina Vado fuori Ok Beh Aiuto